Sono quattro le offerte presentate per i collegamenti in continuità territoriale da e per l'aeroporto di Alghero nelle tratte Roma-Fiumicino e Milano-Linate per il periodo dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024. A contendersi le rotte in regime agevolato saranno ancora una volta ITA Airways e AeroItalia. Questa mattina, 28 giugno, nell'assessorato regionale dei trasporti, durante la seduta pubblica per l'apertura delle buste con le offerte delle compagnie, per entrambe le rotte si sono presentati due vettori che già oggi gestiscono il servizio con AeroItalia su Alghero-Roma e viceversa e ITA su Alghero-Milano in ritorno. L'assessore Antonio Moro non nasconde la soddisfazione. Nell'arco di sei mesi la gara per la continuità territoriale per i collegamenti da Alghero con Roma e Milano è passata da zero offerte a quattro offerte. Ringrazio AeroItalia e ITA per l'attenzione dimostrata e per la volontà di mantenersi sul mercato dei ceri sardi. Nelle prossime ore, dopo la verifica della documentazione da parte della Commissione di Gara, si procederà all'assegnazione provvisoria per 30 giorni, come previsto dalla legge prima di assegnare definitivamente le rotte. Nel frattempo tutti i vettori europei, anche chi non ha presentato offerte, potranno farsi avanti entro il 27 settembre per accettare gli oneri di servizio senza compensazione economica. Per la rotta Alghero-Roma-Fiumicino, la base d'asta era stata fissata in poco più di 5 milioni di euro, per l'Alghero-Milano-Linate circa 3 milioni. Risolto il caso Alghero, adesso l'assessore Moro guarda il cosiddetto modello Sardegna per la continuità territoriale, ovvero il disegno di legge con oneri di servizio e aiuti diretti ai vettori e ai passeggeri. Mi riferisco in particolare all'approvazione del disegno di legge che prevede l'aiuto diretto ai vettori per l'apertura di nuove rotte e la sperimentazione dell'aiuto diretto ai passeggeri per l'abbattimento del costo delle tariffe aeree. Tutte iniziative che saranno realizzate con l'impiego dei ribassi d'asta sulle gare della continuità territoriale.